Ad Halloween, dolcetto o lupetto? Ok, papà. Questa sera è la gran sera. Sono pronto per essere lupo al 100%. Proprio come te. Sfigato. Spaventosamente divertente. La trasformazione ha bellissimo. Wow. Bene lupen, mostrati alla luna. Questa è per te, papà. Ecco a voi il grande lupo cattivo. Un barboncino? Hai tempo fino a sorgere della luna di domani per dimostrare che sei un vero lupo, altrimenti verrai bandito. Chi sei tu, barboncino? Sono un barboncino. Davvero? Bassotto? Dalmata? Chihuahua? Wow. Sta lontana dal mio sedere. Sei matta? Wow. Paurosamente avventuroso. Lascialo andare. Due a prezzo di uno. Portateli al Salone dei Cucciolini. Mostra! Che di questo? Con le voci di Ninna e Matti. Non c'è campo? Cosa vuol dire che non c'è campo? E di Captain Blazer. Palla. Cento per cento lupo. È del tutto normale. E vai, sono umano! Guardatemi adesso! Oh, wow! Per tutti i croccantelli! Ad Halloween, al cinema! Radio Italia. Radio Ufficiale.